Si tratta di poco più di 2 kg di funghi mori, il più bello è quello che ha trovato Bruna, 6 etti e qualcosa, poi ce n'è uno di mezzo chilo, un altro di 4 etti e mezza e svariati funghi di ogni genere, il tutto sono mi pare 2 kg e 2, uno più bello dell'altro.